Musica Buongiorno, sono Alberto Fara e sono il responsabile di Nowstrip.com Nowstrip.com nasce da una duplice esigenza, da un lato quella di far conoscere la costa a tutti i turisti che arrivano in Sardegna dall'altra quella di far incontrare i proprietari di barca che mettono a disposizione la loro barca per effettuare delle escursioni in mare e quindi grazie a questo sistema recuperano i costi di gestione della loro barca. È un sistema con il quale il turista scopre le bellezze della costa con una persona del luogo e dall'altra parte il proprietario della barca abbatte i costi di gestione della barca che diventano decisamente meno pesanti sul suo conto. Il nostro modello di business si basa sostanzialmente su questo ma anche su altro perché vi trovate all'interno del nostro portale tante aziende che offrono servizi legati al mondo della nautica ma anche tanti corsi per chi volesse imparare ad andare in windsurf, catsurf e nel prossimo futuro volesse anche prendere la patente nautica. Ma se adesso io sono un turista che arriva, vede il vostro portale, vi contatta, come funziona? Funziona in questo modo, all'interno del portale vi sono una moltiplicità di annunci che consentono al turista di intanto vedere che cosa offre, quali sono le proposte che offriamo all'interno del sito quali sono le proposte che i nostri capitani hanno deciso di proporre all'interno del sito scegliendo tra battute di pesca, uscite in relax oppure divertimento infatti ci sono un sacco di attività legate agli sport acquatici. Il turista entra dentro l'annuncio, vede le caratteristiche e contatta direttamente il capitano per decidere quando organizzare e le condizioni dell'uscita.